Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi cercheremo di capire se è importante caricare tanto il carico nel bodybuilding, il carico sul bilanciare, quanto è importante per creare ipertrofia. Prima di iniziare vi ricordo sempre che quando parliamo di carico e quando parleremo in questo video di carico stiamo parlando di un carico relativo. Che cosa vuol dire un carico relativo? Nel senso che è relativo per voi individualmente in base a quella che è la vostra struttura, il vostro peso, in base a quello che è il vostro start point, quindi la capacità generalmente vostra naturale genetica di creare forza, creare connessione meccanica. Quindi logicamente un soggetto che pesa, naturalmente arriva verso i 100 kg, pesa tanto, riesce a sollevar tanto, la prima volta che è andato in palestra sollevava tanto, allora da queste persone ci può aspettare che i carichi arrivino a essere molto molto importanti. Ma se pesate 70 kg la prima volta che siete andati in palestra, i vostri carichi erano ridicoli, non dovete ammorvarvi perché non fate mai i 300 kg di stacco. Quindi cercate sostanzialmente di paragonare tutto il discorso dei carichi nel vostro caso relativo. E relativo anche specifico rispetto all'alzata, nel senso che se siete portati ad alzare molto in uno stacco, piuttosto che in uno squat, piuttosto che in una spinta orizzontale, spinta verticale, eccetera, allora quei carichi saranno naturalmente più alti e dovete aspettarvi di farli crescere di più. Se invece non siete portati per alcune alzate da un punto di vista biomeccanico, allora aspettatevi di caricare di meno, però ciò nonostante parliamo quindi di un carico relativo, quanto è importante far crescere questi carichi. E la risposta è veramente molto molto importante. Nel bodybuilding la capacità di creare forza nel tempo, di creare carichi importanti nel tempo, vi permette di raggiungere l'80-90% del vostro potenziale di crescita ipertrofico. Però, però attenzione, non stiamo parlando di forza pura, stiamo parlando di carichi rapportati al bodybuilding. Quindi è un'ottica un po' diversa, il motivo per cui se fate powerlifting non raggiungete questo potenziale di crescita, perché là lavorate la forza pura, ok? Lavorate in altre parole quello che è il vostro massimale su una certa alzata. Nel bodybuilding il discorso è diverso, secondo tre punti di vista importanti. Ossia il carico deve essere innanzitutto rapportato alla forma. Ossia io voglio arrivare a sollevare tanto, ma con una forma, uno schema motorio che renda l'alzata, generalmente, l'esercizio quanto più difficile possibile per il distretto target. Che è esattamente l'opposto di quello che si fa nel powerlifting, in cui voglio trovare lo schema motorio che, peraltro, seguendo le regole di competizione gara, renda l'alzata quanto più semplice possibile, ok? A livello di ROM, eccetera. Quindi ovviamente la forma è completamente differente. Deve essere la forma che rende, di nuovo, il carico quanto più difficile possibile per l'esercizio target. In secondo luogo l'effort, ossia questo carico deve essere e sarà un carico efficace nel momento in cui riesco a portarlo a cedimento. Cioè se non riesco a portare a cedimento un certo carico, perché magari cedo da un punto di vista neurale, allora non sarà un carico efficace. Quindi se, per esempio, riesco ad arrivare ai 220 kg di stacco, per dire che potenzialmente sarebbero il mio 8RM, ma in realtà faccio soltanto tre ripetizioni perché cedo da un punto di vista neurale, perché non riesco a portare la serie a cedimento, allora per me è un carico che non ha rilevanza nel bodybuilding, non mi dà quello stimolo ipertrofico. Quindi è anche importante che il carico che riesco a sbloccare sia un carico che riesco a raggiungere a cedimento. Se avete visto di recente i miei post su Instagram, ne ho postato uno in cui facevo una sessione di pull, anzi di gambe, con focus sui femorali, e a 18 giorni dall'Arnold, dalla gara, portavo a cedimento degli stacchi, a gambe semitesi. Quindi si sta parlando sempre di cedimento ed effort, che è la base del bodybuilding. E terzo punto molto importante è che io voglio, e questo è il fondamentale, voglio diventare incredibilmente forte e migliorare il carico sui rep range utili per il bodybuilding, quindi non mi interessa il mio massimale. Cioè non mi interessa fare una ripetizione con 300 kg di stacco, perché una ripetizione, l'1RM, non è un rep range utile, non è un rep range che di per sé crea tanta ipertrofia. Dei rep range utili abbiamo parlato nella nostra Academy su Renonation.it, quindi se vi va dateci un occhio, perché si differenziano in base al distretto muscolare, ossia ogni distretto muscolare in base ai meccanismi di adattamento ipertrofici, cui risponde meglio e che nella pratica in palestra riusciamo ad attivare meglio, ha un rep range utile su cui lavoriamo, quindi il rep range in cui lavorare per il petto sarà diverso rispetto ai quadricipiti, sarà diverso rispetto ai bicipiti, eccetera. Però generalmente i rep range che ci interessano sono quelli che vanno dal 6-8, 8-10, 10-12, 12-15, 16-20 e 20-25, 25-30. Quindi dal 6 al 30RM voglio diventare incredibilmente forte, quindi voglio anche diventare forte per esempio su delle 30 ripetizioni sulla pressa, ossia arrivare a caricare tanto carico, ovviamente proporzionalmente, facendo 30 ripetizioni consecutive sulla mia pressa. E tutto questo genererà ipertrofia, quindi sono questi requisiti che definiscono il carico nel bodybuilding. Ora, ciò detto, come attuare, come mettere in pratica questa progressione sul carico. Di nuovo, per quanto riguarda le progressioni nello specifico, ci sono molte differenze che possiamo attuare tra neofita, intermedio e avanzato, e sono tutti argomenti che stiamo trattando nella nostra Academy. Quindi per andare un po' più nello specifico, nel dettaglio, vedere le schede, come impostarle, poterle scaricare, eccetera, vi rimando alla nostra Academy. Però generalmente abbiamo due sistemi fondamentali, che non sono gli unici sistemi di lavoro, sono i due fondamentali, poi ce ne sono altri e altri sfumatori che possiamo utilizzare. Il primo sistema è quello del ramping, che si utilizza soprattutto all'inizio, soprattutto per il neofita, ma in alcuni casi anche per l'intermedio, e in alcuni casi anche per l'avanzato avanzato. Il ramping, ne abbiamo già parlato, sostanzialmente vuol dire che se io voglio migliorare sulle otto ripetizioni, faccio serie da otto, su un esercizio, finché non riesco, cioè non arrivo al punto in cui non riesco a chiudere le otto ripetizioni. Quindi questo è uno schema che ho utilizzato, per esempio, nell'ultimo lockdown, in periodo di bulk, sulla pressa, perché era l'unico compound in cui riuscivo a spingere per bene nella palestra che avevamo, perché non c'era un axe squat, c'era soltanto uno smith squat in cui non riesco a caricare veramente, veramente tanto come vorrei, per un discorso biomeccanico. Quindi sulla pressa potevo spendere più energia, potevo spendere più volume. Ho utilizzato il ramping, ossia sono partito facendo serie da otto, iniziando con un disco per parte, due dischi per parte, tre dischi per parte, sempre da otto, prendendomi il giusto recupero all'inizio un minuto, un minuto e mezzo, due minuti, poi fino a tre minuti, finché non arrivava un carico che mi impediva di chiudere l'ottava. Quindi all'inizio sono arrivato a 10 dischi per parte e da là ho aumentato progressivamente, cioè ogni volta riuscivo a strappare un, magari mettevo 5 kg per parte in più, magari mettevo 10 kg per parte in più, magari mettevo 20 kg per parte in più e sono passato dai 400 kg, ovviamente falsati perché era una nuova pressa, mi ci dovevo un attimo abituare, quindi è un carico molto basso per me, e sono arrivato, postato su Instagram peraltro, fino ai 520 kg. Quindi ho fatto una progressione lavorando sempre con questo schema, cioè ramping sulle otto, lavorando sulle otto fino a non chiudere. E questa è una progressione di forza a tutti gli effetti, però di nuovo non si presta molto bene agli avanzati, dove ovviamente chiede tanto tonnellaggio, tanta mole di lavoro, infatti tutto il resto della sessione gambe era poco volume perché mi esaurivo veramente su questa pressa, però in quel caso era funzionale. Per il neofita viceversa è uno schema molto molto interessante perché ci costringe a superarci ogni volta, ci costringe a raggiungere in qualche modo il cedimento, anche se poi il cedimento vero non è, perché il neofita tendenzialmente non è in grado di raggiungerlo. Ora l'altro schema è il Chasing the Log, che è uno schema molto utilizzato, inserito da Dante Trudel nel DC Training, nel Fortitude Training, in tantissime metodologie, e sostanzialmente è molto semplice, se io ho un rep range, per esempio 8-10 ripetizioni, prendo un peso, mi escono con 100 kg 9 ripetizioni, ok? Sto nel range 8-10, quindi è un mio 8-10 RM. La volta dopo tengo sempre 100 kg perché sto sempre in questo rep range, però cerco di battere il numero di ripetizioni, quindi ne ho fatte 9 e cerchiamo di strappare la decima. Mi escono 10 ripetizioni, ok? Sto sempre nel mio rep range 8-10, per cui mantengo questi 100 kg. La volta successiva, ho chiuso 10 ripetizioni, cerchiamo di arrivare all'undicesima e strappo un'undicesima ripetizione, ok? Sono uscito dal mio rep range, non è più un 8-10 RM, sono uscito, ho fatto un 11, quindi devo alzare un filo. Quindi la prossima volta invece di 100 kg magari metto 105, 110. E ovviamente le ripetizioni diminuiranno, tornerò a farne 8, magari 7, e da là continuo a lavorare su quel carico finché non supero il mio rep range, cioè faccio di nuovo più di 10 ripetizioni in questo caso. E questo è un approccio chase in the log, ovviamente dovete scegliere quello che è l'RM, non deve essere necessariamente l'8-10, in alcuni casi è un 6-8, in altri un 12-15, insomma poi la scelta è tutto un altro capitolo, tutto un altro mondo. E il mio obiettivo è di battermi non di sessione in sessione, all'inizio del meseo ciclo mi batterò di sessione in sessione, però poi gradualmente inizierò ad avere un po' più di difficoltà, quindi magari ci vorranno 2-3 volte, magari rimarrò in stallo su un certo carico, eccetera, eccetera. Però poi su come affrontare stallo magari ci dedicherò un video, se vi interessa scrivetelo qua sotto nei commenti, come sempre. Qualsiasi cosa vi interessa ragazzi scrivetelo qua sotto nei commenti, io poi mi segno tutto quanto e li più gettonati ci faccio un video sopra. Comunque generalmente questo è un altro approccio che funziona molto molto bene. Ora, altra cosa importante sia per il ramping che per questo approccio, se si in the log modulate il volume, cioè non esagerate sul volume. Di nuovo il progressive overload è quello che vi garantisce l'80-90% dei vostri risultati, con una forma impeccabile, con un buon effort, di nuovo ricordate la gerarchia dell'ipertrofia che vede alla base la forma, poi l'effort e soltanto alla fine il carico. Però questo vi garantisce tanti tanti risultati e una volta raggiunti importanti carichi potete avere un transfer di questa abilità, come abbiamo fatto per esempio nel nostro programma ADE, un transfer di questa abilità su lavori più densi, lavori più metabolici che avranno una risposta molto più importante per il vostro corpo. Quindi dedicateci tempo e non esagerate col volume, l'intermedio potrà permettersi un po' più di volume, ma man mano che andrete avanti il volume costerà molto di più proprio perché i carichi aumenteranno gradualmente. Quindi ponendo questo progressive overload come vostro substrato di base, come vostro miglioramento che deve avvenire non nel breve, non nel medio, ma nel lungo periodo, ovviamente se iniziate a esagerare con il volume andrete a ridurre molto questi risultati perché il volume è la variabile che più di tutto impatta su quello che è il recupero. Al di là che si dice non è l'intensità, non è l'effort, ma è il volume, la molle di lavoro che fate. Ora, ci ho detto, ultima parentesi riguardo ai lavori di forza. Lavori di forza stile powerlifting, utilizzare degli schemi nel powerlifting. Noi abbiamo pubblicato un programma che è Hercules, che è un programma dedicato al power building, fatto come dovrebbe essere fatto, ossia inserendo degli schemi di lavoro del powerlifting con dei lavori accessori in ottica ipertrofica. Va bene, può essere inserito. Servono a che cosa? A migliorare la gestione e il feeling con un certo carico. Quindi quando arrivate a dei carichi che non riuscite proprio a gestire bene, che sentite che nel momento in cui staccate non gestite, allora magari è il momento di dedicare un meso ciclo dedicato proprio alla forza. Quindi utilizzare i schemi di power building che logicamente si baseranno su lavori in buffer, di accumulo del tonnellaggio, di lavoro proprio sull'alzata, sullo schema motorio. E questo va benissimo. Normalmente io mi trovo a farlo utilizzare ai ragazzi una volta ogni due anni, una volta ogni anno in caso i ragazzi siano particolarmente deboli. Ci può stare. Però trust the process, nel senso non pensate che i miglioramenti di forza debbano avvenire soltanto con schemi derivanti dal powerlifting, perché di nuovo sono miglioramenti di un tipo di forza che a noi non interessa. Noi vogliamo migliorare la forza nel bodybuilding che si basa su quei tre punti che abbiamo visto, ossia miglioramento della forza con una forma in ottica bodybuilding, quindi una forma tendenzialmente più difficile rispetto al powerlifting, miglioramento di forza al cedimento, portando le serie al cedimento, miglioramento di forza nei diversi rep range utili da un punto di vista di stimolazione ipertrofica. Ragazzi, qualsiasi domanda qua sotto come sempre sarò ben lieto di rispondere e detto questo noi ci vediamo al prossimo video.